C'è un film che si intitola Sign Gene, che vuol dire il gene dei segni più o meno per capirci. È una storia di supereroi che traggono, la faccio molto semplice perché devo spiegare in 5 minuti quello che ci vorrebbe un'ora per essere spiegato, supereroi che traggono i loro poteri proprio dal fatto di essere sordi, cioè audiolesi, cioè non udenti. Emilio e Carola Insolera sono qui con me, buongiorno ragazzi, sono ovviamente non udenti. La nostra interprete Romina Rossi, che mi pare che già con il linguaggio dei segni sia molto a suo agio. Il tema, cari amici da casa, caro Michele Plastino e caro Carlo Genta, è quello ovviamente dei segni associati anche al mondo dello sport, però prima dobbiamo partire dal farci raccontare proprio. Ho detto bene Romina, cioè è proprio questo? È il linguaggio dei segni che ti fa acquisire dei superpoteri che non avresti altrimenti in questo film? Sì, sì, assolutamente sì. Il film, ci sono molti personaggi dove c'è una montazione genetica, c'è una montazione genetica quindi quando tu usi la lingua dei segni hai più potere, diversamente non ce l'hai. In realtà noi persone sorde abbiamo un grande potere grazie alla lingua dei segni perché è visuale, visiva. Mi sembra tra l'altro, la prima battuta che mi viene in mente è che ho un grande metodo per fare un film molto internazionale perché se non hai bisogno di parlare il film è dedicato immediatamente al mercato mondiale, no? Sì e no, dobbiamo ricordarci che la lingua dei segni è una lingua ed è diversa in tutte le nazioni del mondo. Per semplificare in realtà c'è una lingua sonora e una lingua visuale, ok? Noi abbiamo inglese, italiano, spagnolo e così anche in lingua dei segni, lingua dei segni visiva, inglese, italiana, spagnola. Quindi c'è lo spagnolo visuale, il tedesco visuale e così via, come c'è la lingua scritta italiana. Ognuno ha i suoi segni. Carola, ci puoi raccontare invece la trama del film, la divisione dei ruoli, ovvero chi fa cosa in questo film? Io è la prima volta che faccio parte di un film di questo genere e questo film è un film molto movimentato, no? Che ci dà la possibilità di veramente seguire, avere moltissime emozioni e poi tra l'altro usare la lingua dei segni in un film quando non si è mai utilizzata. Io sono assolutamente affascinato a tutto questo, nel frattempo perché capirete bene che è un esperimento il nostro, nel senso che ovviamente è la prima volta che ospitiamo persone non udenti in studio. Mi interessa molto sapere come è avvenuto il casting, cioè in base a che criterio sono stati scelti degli attori e se sono tutti non udenti. sono tutte persone sorde oppure persone che sono nate da famiglie di persone sorde, quindi che hanno come prima lingua la lingua dei segni, che hanno come lingua madre la lingua dei segni. Non ci sono agenzie per attori sordi, quindi io ho dovuto creare una mia rete, quindi attingendo da quella che è la mia rete a livello internazionale, Giappone, America, Italia, scegliendo delle persone ho trovato delle persone che veramente fossero in grado di fare questo film insieme a me. Tra l'altro uno degli attori è un campione americano di wrestling perché nello sport, lo chiedo a Carola ma poi me lo dirà anche Emilio, nello sport la sordità non è considerata un handicap, probabilmente giustamente, qui entriamo nel nostro campo. No, effettivamente non c'è nessun problema, tutte le persone sorde possono fare uno sport, qualsiasi tipo di sport, non possono solo sentire, quindi assolutamente sì, non hanno altri tipi di problemi se non quello di trovare delle soluzioni diverse per poter sentire magari il fischio dell'arbitro o altre cose attraverso dei canali luminosi. È vero Emilio che era nato come cortometraggio e poi è diventato invece il progetto di un film, l'idea era quella del contometraggio e poi è diventato un film di durata tradizionale? Sì, esatto. Doveva essere un semplice cortometraggio. Poi le persone che hanno lavorato con me erano talmente entusiaste che mi hanno detto no, dobbiamo crearne veramente un film e io ho cominciato a pensarlo e forse era la giusta opportunità per fare questa cosa quando ho vissuto in Giappone. Se avessi fatto un corto avrei dato molte meno informazioni e quindi ecco perché siamo partiti da tutto ciò. Il film nel frattempo stiamo vedendo delle scene, è bello d'azione, è bello, arrivo a dire anche con una puntina di splatter, insomma lo vedo molto molto carico, molto emozionante, fa largo uso anche di tecnologia. E non solo, direi. Ok, questa è una scena che in realtà è solo una parte. Con questa è una scena, sì, bene, siamo in fascia neanche troppo protetta, va bene, ok, sì, comunque vista l'ora esattamente. Ok. Senti Carlo Genta, ma che esempi ci vengono in mente nello sport di personaggi che possono avere, che sono audiolesi, fermo restando che la battuta me la devi concedere. In qualche caso, voglio dire, tu citavi prima atleti di tutti gli sport che tutto sommato farebbero bene ad esprimersi con i segni piuttosto che... Bravo, bravo. Guarda, io ti regalo un nome. Tu sai che hai citato prima la mia passione per il basket, a me è venuto in mente subito... Eccolo qua, questo signore si chiama Miha Zupan, classe 82, 2,3 metri, sordo dalla nascita, gioca a livelli di Eurolega, buon giocatore di Eurolega, giocatore della nazionale slovena e quindi questo è il classico esempio, tu citavi prima, della sordità che non è considerato un handicap nello sport, completamente sordo, eccellente giocatore professionista di basket, credo che valga più questa foto, più queste immagini di molte altre parole, no Stefano? Assolutamente, tra l'altro ti cito anche un tennista e vado da Michele Plastino che si chiama Dak Lee che è andato su tutti i giornali ultimamente perché ha sfiorato la qualificazione proprio nello slam, allo US Open. Michele, il linguaggio dei segni che utilizzano le persone che devono farlo, cioè le persone audiolese, le persone sorde, ma che in realtà poi nello sport è un linguaggio veramente universale perché in doppio i tennisti si fanno i segni dietro la schiena nel tennis, nel volley e è assolutamente naturale fare segni anche lì per mettersi d'accordo sulle tattiche di gioco, ma succede Michele anche nel calcio. Sì, nel basket, a proposito di basket, invece Carlo è professore di musica quando parla di basket, cambia proprio la vocalità, devo dire, si sente la grande passione. Sì, anche nel calcio, devo dire anche i bari, devo dire, quando giocano a carte sono maestri in questo, ma nel calcio, soprattutto calci d'angolo, che si chiamano gli schemi con i numeri, uno, due, tre, calcio di punizione, intuisco molto a calcio a cinque, quando ho allenato proprio agli albori della federazione di calcetto, già lo praticavo, quindi suppongo anche adesso, laddove siano pochi giocatori che quando parte l'azione sanno come si devono muovere. Tra l'altro io stavo ascoltando con grande passione, proprio invece se mi permetti il discorso cinematografico, essendo appassionato, mi piacerebbe sapere, nel film, che proporzione c'è tra i segni, cioè il linguaggio dei non udenti segnato, e invece quello vocale, cioè quello di altri protagonisti che sono presenti nel film, cioè se c'è una percentuale. Certo, ma qual è il rapporto tra linguaggio dei segni e linguaggio parola convenzionale nel film? In realtà è 50-50, nel film ci sono protagonisti sordi che segnano, però ci sono anche dei poliziotti giapponesi che non conoscono la lingua dei segni e che quindi parlano, parlano in giapponese e parlano di come ricercare queste persone. E quindi c'è un racconto di persone, la lingua utilizzate l'inglese, in cui si racconta la storia, ecco, è alla pari. È chiaro che l'attenzione viene posta sulla lingua dei segni. Mi viene in mente l'atletica leggera, ne parlavamo prima, no? Nello start dell'atletica leggera, il via viene dato con un segnale acustico che però è anche un segnale luminoso. Sì, esatto. Io credo che questo tema vada risolto, perché quando si fa una domanda le persone sorde possono fare sport e in realtà, mi vedi, siamo assolutamente uguali. E la tecnologia che ci può aiutare, come diceva Karola prima, la tecnologia ci può aiutare a risolvere molti problemi. Poi tu dicevi, parlavi del linguaggio dei sordi, in realtà non è un linguaggio quello che loro usano, è proprio una lingua, una lingua vera e propria con una struttura grammaticale, una sintassi, che ha delle sue regole. Mentre invece il codice utilizzato, ad esempio, negli altri sport non è costituito da frasi e da regole grammaticali. Quindi non puoi parlare con quel codice lì di filosofia, di politica o di altro. Questo è un tema che si utilizza spesso nel mondo degli udenti. Ecco perché si creano questi codici provvisori per poter comunicare che sono molto limitati. E quando in segretezza si vogliono comunicare qualcosa, in una lingua che non è visuale diventa difficile. Assolutamente. Mentre invece noi, che usiamo la lingua dei segni, sicuramente possiamo utilizzare dei codici molto più ampi e davvero segreti e magari cambiarli in ogni partita, di modo che nessuno possa scoprirci. Senti Romina Rossi, una persona non audiolesa, quanto tempo impiega per imparare un accettabile linguaggio dei segni? Io personalmente consiglio a tutte le persone udenti, le persone italiane, di pensare alla nostra scuola. All'interno delle nostre scuole dovrebbe essere inserita la lingua dei segni, perché possono avere una lingua sonora e una lingua visuale. L'italiano non è solo una lingua per le persone udenti, ma è anche visuale, quindi anche per le persone sorde. Ok? Ripeto il concetto. L'italiano non è una lingua solo per i sordi, è anche una lingua visuale. Ok? Quindi io penso che in tutta Italia vada insegnata la lingua dei segni sin dall'inizio. Per gli udenti imparare ora la lingua dei segni ci vuole del tempo. Certo, si può imparare una lingua dei segni a livello basilare, piano piano. Tu quanto tempo hai impiegato? Tu Romina, proprio tu, tu. Nonno? Non posso rispondere. Cinque anni credo. Ok, ok, insomma, vedi che comunque... Karola, volevi dire qualcosa? Quanto tempo ci vuole per imparare? Moltissimo, perché comincia da zero, ok? Perché non si ha di base questa lingua, quindi moltissimo tempo, perché bisogna essere bilingui, quindi bisogna sin dall'inizio. Forse Karola, quello che vuole dirti è anche trovare il modo di poter parlare l'accento, utilizzare l'accento, quindi visuale, deve essere perfetto sin da piccolo, ma tu oggi puoi imparare la lingua dei segni, in sei mesi, un anno, ma non avrai tutti gli accenti del caso, quindi non avrai tutti gli accenti corretti, giusti. Non sarai così dettagliato e così preciso, ovviamente. Ragazzi, qui ci sarebbe da fare un approfondimento di durata bimestrale proprio, di semiotica e di molto altro. Abbiamo cercato di dare un quadro chiaro della situazione e direi che uno dei sistemi migliori che possiamo fare per approcciare questo tema è quello di andare a vedere il film. Appuntamento, allora, quando esce, da quando è nelle sale Sain Jean? Questo venerdì, il 14 settembre, in tutte le sale d'Italia UG Cinema. UG Cinema. In tutte le sale UG Cinema dal 14 settembre, Sain Jean. Emilio e Karola Insolera, grazie anche a Romina Rossini. Per adesso il 14, solo un giorno, e poi potremo continuare, se verranno a vederci intanto. Poco fa a Roma, al cinema, abbiamo venduto tutti i biglietti. Auguriamoci ovviamente che vada molto avanti e la cosa fondamentale, che deve essere chiara, è che ovviamente è un film realizzato da non udenti, ma evidentemente, spero si sia capito, lo possono guardare tutti e lo devono guardare tutti, perché si capiscono tante cose. Certo, tutti, assolutamente. E' quello che diceva Emilio prima, cioè insomma il concetto è che... C'è la musica, ci sono i sottotitoli, c'è tutto. Musica, sottotitoli, linguaggio dei segni, molta azione, anche molto molto decisa, come abbiamo visto dai trailer. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi.